Più dignità per dipendenti e collaboratori che hanno perso il lavoro a causa del fallimento della Gessi Sport. È la richiesta di SLC e CGL Elecco, pronti a tutelare i lavoratori rimasti a casa a seguito della chiusura degli impianti sportivi di Merate e Oggiono. Gessi Sport, spiegano i sindacati, contava all'interno del proprio organico 21 dipendenti dislocati in diverse province lombarde, sei coloro che prestavano servizio negli impianti lecchesi, assunti per la maggior parte con contratti di collaborazione. Ciò, continua CGL, alla luce del fallimento societario, ha comportato un grave danno ai lavoratori e alle lavoratrici che non hanno diritto a percepire né l'indenità di disoccupazione Naspi, né l'indenità di scola riservata ai collaboratori. La SLC e CGL aveva chiesto un incontro con la società già nel corso dell'anno passato per discutere le condizioni e le prospettive occupazionali ed economiche dei lavoratori. Purtroppo, sottolineano i sindacati, non abbiamo mai ricevuto risposte. Riteniamo, continuano, che i due centri siano fondamentali per la vita del nostro territorio, soprattutto da quando la pandemia ha reso più complicato svolgere attività sportive, riabilitative e di socializzazione per tutte le fasce d'età. I sindacati aggiungono di non poter più tollerare stipendi inferiori a 5 euro l'ordi l'ora per chi si occupa di discipline sportive, annunciando quindi il proprio impegno per garantire quanto prima la continuità lavorativa a tutti i dipendenti e collaboratori e l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli impianti sportivi. La CGL Elecco si è inoltre mobilitata per assistere chi ha pagato un abbonamento agli impianti di Merate o Giono. Feder Consumatori, associazione legata alla Camera del Lavoro, è a disposizione per verificare la possibilità di chiedere il rimborso della quota versata.